Uè non fare il babbo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci Csiodarone! Dai! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad uno specialissimo video Io sono Csiodar e ragazzi devo ringraziare due super informati della mia chat Sulla piattaforma viola perché si sono resi conto di un post ufficiale E non solo che Epic Games ha rilasciato da pochissimi minuti E che darebbe delle informazioni incredibili sul nuovo capitolo della stagione numero 2 ovviamente di Fortnite La notizia ufficiale purtroppo è arrivata ne abbiamo parlato nel video di qualche ora fa Ne abbiamo parlato anche nel video di due giorni fa Confermato il nuovo la nuova data di uscita del capitolo Le api dentro i file erano state aggiornate settimana scorsa Poi riaggiornate tre o quattro giorni fa Epic Games oggi conferma che il 20 febbraio è la data ufficiale di uscita della season 2 La vera domanda che ha un po' indispettito tutti è Cavolo non hanno fatto nulla e si permettono di posticipare la season dopo 5 mesi Che stiamo aspettando un aggiornamento che possa ridare un pochettino di forza al nostro battle royale preferito Ragazzi ora si sa tutto È ufficiale Ci sarà un nuovo motore grafico per Fortnite Quindi non si appoggeranno più alla Real Engine Che è quello che stanno utilizzando in questo momento Ma passeranno al motore grafico Chaos Che cos'è il motore grafico Chaos? Beh il nome dice già veramente tutto È proprio un Chaos Perché sarà molto ma molto più dinamica L'interazione del personaggio con gli oggetti di gioco E più precisamente con le costruzioni Che adesso potranno distruggersi Come già siamo abituati a vedere nei giochi di guerra Tipo Battlefield Tipo COD Insomma voglio farvi vedere un'immagine esclusiva Incredibile Guardate un pochettino che roba ragazzi Il problema è che non parte lo slide Perché vi garantisco che era meraviglioso Eccola qua ragazzi SBORONK Questo Sembra essere Il primo punto di riferimento ufficiale Per quello che vi ho appena detto Quindi come vedete Se per esempio tiriamo un colpo di RPG Al palazzo che c'è a sabbie sudate Beh il palazzo di sabbie sudate Si sbriciola piano piano Distruggendosi con i colpi delle armi Ed effettivamente Se volete un mio parere personale Devo dire che è una mossa Incredibilmente azzeccata Sarebbe veramente un punto di svolta Che potrebbe riportare La massa di videogiocatori A giocare a questo capitolo Che tra l'altro Appunto poi avrà la nuova season E che potrebbe implementare Un sacco di altre cose nuove Veicoli Missioni Storyline Adesso Sì Se veramente questo è quello che dobbiamo aspettarci Nella prossima season di Fortnite Io sono disposto ad avere pazienza Perché preferisco avere Una modifica radicale In quello che sto vedendo Beh ragazzi Io vi ringrazio tantissimo Per avere guardato questo video Spero che vi sia piaciuto E mi raccomando Non dimenticate di iscrivervi Al canale YouTube E al canale sulla piattaforma Viola Io sono in live in questo momento Sulla piattaforma Viola Noi invece Ci vediamo alla prossima Con un nuovo video Ciao Ciao